Come ormai è tradizione, in prossimità del Natale a Fano apre il presepe di San Marco, ogni anno arricchito di nuove scene e statue realizzate in pezzi unici. Abbiamo chiesto a Don Marco Polverare di farcelo visitare in esclusiva. Ci troviamo di fronte alla scena della Natività, ormai conosciuta, anche se ci rallegra sempre il fatto che chi viene rimane sempre da questa scena molto preso, molto entusiasta. Chissà, forse perché l'ambiente stesso riesce a coinvolgere, è coinvolgente questo presepe. Dicevo la scena di sempre, quella che già conosciamo, però quest'anno presentiamo come ogni anno, puntualmente in maniera precisa, tre nuove scene. Non sono in questo settore, ma nella parte iniziale e finale di questo percorso, ormai che conosciamo bene. Precisamente abbiamo realizzato dal Vecchio Testamento, con la profezia di Isaia, dell'Emmanuele, dei tempi nuovi portati, ecco, che coinvolgono l'uomo e la natura stessa, il lupo, l'agnello, la pantera, l'orso, che staranno insieme, ce l'auguriamo proprio. E poi, ecco, scendendo, nell'ultima parte, l'anno scorso avevamo realizzato la Passione nelle sue varie fasi, quest'anno copresentiamo la scena della crocifissione di Gesù, davvero suggestiva, con pezzi unici, anche con bellissimi effetti. Abbiamo cercato di ricreare il clima del Golgotha, no? Quali sono i numeri di questo presepe? Sia i numeri tecnici, hai detto un mese di lavoro, ma per realizzare l'intera opera ci sono tanti numeri, quindi che adesso ci elencherai, ma anche i numeri in termini di pubblico. Dunque, i numeri è difficile un po' calcolarli, ecco, posso dire che il tempo che ci mettiamo, ecco, è un tempo nella programmazione, nella passione e nell'editazione che ci coinvolge un po' tutto l'anno, no? Ecco, poi praticamente noi da settembre cominciamo a lavorare in maniera, ecco, seria, puntuale e fissa, è il tempo in cui chiudiamo dall'apertura estiva in prospettiva di quella che è l'apertura natalizia, quindi dal mese di settembre si lavora. Posso dire che i pezzi unici, quelli particolari fatti per questo presepe, ormai sono oltre 50 pezzi unici che ogni anno la ditta realizza proprio per le scene particolari di questo presepe. Non è soltanto, lo diciamo tante volte, il presepe, ma sono i dioriami della storia della salvezza, quindi occorrono scene particolari fatte positivamente per questo presepe. I numeri delle persone, ci aggiriamo certamente oltre ai 20.000 visitatori ogni anno. Dal prossimo anno, o meglio, da quest'anno, avremo la possibilità di essere molto precisi, perché con il nuovo sistema che è stato fatto di sicurezza, che prevede anche il conteggio delle persone, possiamo stabilire giorno per giorno quante persone varcano la soglia di questo presepe. Pubblico da ogni parte d'Italia, a volte anche da paesi fuori dall'Italia vengono a trovarti. Ecco, proprio per questo, dopo l'inaugurazione del 20 di dicembre, quando e in che orari sarà possibile visitare questo presepe? Dunque, rimarrà aperto da Natale all'Epifania, tutti i giorni, dalle 9.30 del mattino a mezzogiorno, dalle 15 alle 19.00. Poi, ecco, sarà aperto in tutte le domeniche fino a Pasqua, nei pomeriggi, sempre dalle 15 alle 19.00. E nel periodo estivo faremo l'apertura serale, quindi dopo cena, in mesi di luglio, agosto e metà settembre, dalle ore 21 fino alle ore 23.00.